Ciao, qui è Gio, seduzione attrazione, e nel video di oggi rispondo a una delle vostre domande che ci è arrivata. La domanda è questa. Quali sono le migliori strategie e tecniche di seduzione per conquistare una ragazza narcisista e stronza? Prima di cominciare ti ricordo una cosa importante. Se ti interessa la seduzione ho anche un canale Telegram chiamato Gio Di Lorenzo, dove condivido informazioni che su questa piattaforma dove mi vedi ora non posso darti. Quindi vieni a trovarmi anche lì, trovi il link in descrizione. Rido perché in realtà queste ragazze sono una rottura di palle mostruosa, ma in realtà è abbastanza semplice. Quello che tu vuoi internalizzare è che solitamente una ragazza è stronza perché ti sta testando, ok? Quindi in realtà il fatto che sia stronza è un qualcosa che tu puoi vedere come positivo, nel senso che se tu superi tutti questi test riesci a ottenere delle risposte positive da parte sua. Poi non sempre questi si trasformano in sesso, ma il fatto che stia comportando la stronza in qualche modo significa perlomeno che sei nel suo radar e quindi che non ti considera come un maschio assolutamente irrilevante, di scarso valore, non desiderabile in alcun modo sessualmente. Non ti dico che questo significhi che sei una ragazza facile con cui finire a letto, ma in ogni caso è meglio stronza che indifferente, ok? Il vero problema, se così la vuoi vedere, sta nel essere narcisista. Per quale motivo? Torniamo un attimo alla stronza. Prima di tutto, quello che fai come una stronza è semplicemente essere non reattivo e prenderla in giro. Ma passiamo al narcisista adesso. Prendere in giro su quello che fa, su come si comporta, insomma, tutto quello che lei ti butta addosso per te ti scivola come acqua sui vetri, ok? E ci ridi sopra, la prendi per il culo, per quello che stai dicendo, in modo che lei senta che questo modo di fare che per lei ha presa sugli altri uomini non ha presa sui te. Ora, c'è un problema però. Quando una ragazza stronza è anche narcisista, tutto questo diventa un po' più difficile. Per quale motivo? Perché con le ragazze narcisiste è semplice entrare in un tipo di relazione, di interazione, se vuoi, che è conflittuale. Quindi per riuscire a far sì di riuscire a utilizzare queste tattiche con una ragazza narcisista, non devi entrare assolutamente in questa situazione conflittuale fra te e lei. E quindi questo comporta è quando tu sei non reattivo e la prendi in giro, la tua delivery, cioè quello che dice, come lo dici, il tono della voce, le espressioni facciali, il fatto di dimostrare con quella che è la tua subcomunicazione di essere veramente non reattivo diventa assolutamente fondamentale perché altrimenti entri in questa atmosfera conflittuale che poi alla fine non porta da nessuna parte. Stop! Non scappare subito! Primo, ricordati di iscriverti al canale. Secondo, vuoi vedere le tecniche di attrazione usate nel mondo reale? Infatti il primo passo per imparare ad ottenere più successo con le donne che ti interessano è imparare come generare una fortissima attrazione in loro e ho creato un video gratuito dove ti spiego esattamente come farlo. In questo video ti mostrerò tre tecniche di attrazione che puoi imparare ad usare subito e vari filmati di ragazze approcciate per la strada con cui utilizzo queste tecniche di attrazione con successo. Clicca il link in descrizione per accedere a questi video. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione. Ciao da Joe di Seduzione Attrazione.